Si è chiuso oggi un progetto ambizioso che nel corso dell'anno ha coinvolto una delle prime classi della scuola medio video. È nato in seno al presidio scolastico Norticello, a misura di dilettanti, e gli studenti sono stati trasformati in piccoli agricoltori. Un'esperienza avvincente e particolarmente congeniale con l'attuale momento storico che chiede un ritorno al settore primario. Il risultato di tale iniziativa è stato presentato nel pomeriggio, dove i ragazzi hanno mostrato il frutto del loro lavoro alle proprie famiglie. Il progetto è stato portato avanti con appassionata dedizione dal docente referente Paolo D'Amato e da Alessandro Lucci. Siamo dati un bel da fare per tutto l'anno. Noi abbiamo cominciato questa avventura davvero ai primissimi giorni di ottobre. e abbiamo seguito i tempi dell'orto. Nei tempi morti dell'orto abbiamo lavorato al film che hanno realizzato i ragazzi. Film e opera teatrale, diciamo a metà, perché poi hanno recitato anche senza pubblico, fra di noi. È stata un'esperienza, diciamo, familiare, perciò la conclusione familiare era dovuta. Un piccolo orto, perché era veramente un piccolo orto, perché si parte dal cotone con il semino dentro per far vedere la pianta che germina e poi cresce. Poi siamo alla prima media, come fare le prime operazioni complicate, le prime divisioni. Lì nell'orticello abbiamo seminato quattro cose, ma le abbiamo seguite durante tutto l'anno e siamo arrivati addirittura con le cime di rava, strane naturalmente, le cime all'olio, a partire dal seme e a tornare al seme. Quindi abbiamo già il seme per l'anno prossimo. Ragazzi, che cosa avete scoperto in questo ciclo di incontri durante quest'anno? Abbiamo imparato come si vanno a coltivare degli ortaggi, a rispettare anche un po' la natura, a imparare anche alcune piante commestibili, quindi un po' tutto legato al settore primario dell'agricoltura. Io credo che anche i grandi oggi hanno imparato qualcosa. Certamente, i grandi intanto abbiamo capito che abbiamo dei figli che sono dei bravissimi ragazzi, ragazzi che si sono prestati con grande curiosità a questa iniziativa, l'hanno portata avanti, i risultati che abbiamo avuto noi tutti quanti sotto gli occhi ci hanno commosso. Forse neanche noi pensavamo che fossero così ben a loro agio in questa realtà, che non è la loro tutto sommato, però è la nostra realtà, è la realtà di questo territorio e forse dovremmo anche puntare un po' più noi, magari qualche avvocato in meno e qualche contadino in più. Un viaggio dunque fra i prodotti della terra, dove gli studenti hanno acquisito competenze e tecniche per la coltivazione dei prodotti. Hanno imparato anche il nome di diverse piante e fra le tante quella che più ha incantato tutti è la saponaia, che permette di lavarsi le mani senza ricorrere al sapone. Infine l'iniziativa ha avuto anche una connotazione teatrale in merito al dominio e al rispetto della terra. Ho raccontato la storia di Matilde, in cui abbiamo imparato a girare un film. Prima ci siamo esercitati su un piccolo cortometraggio e poi abbiamo fatto un altro cortometraggio più lungo che avranno visto i nostri genitori. Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a seguire la nostra rubrica di approfondimento serale in onda al termine del nostro Tg.